ciao a tutti benvenuti nel mio canale youtube mi chiamo zig e per gli amici tg oggi vi faccio vedere come prepariamo l'olio abbronzante a base di carote allora serve 200 grammi di carote olio di semi di girasole prima di tutto li laviamo e poi trittiamo il carote ok 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 così dobbiamo togliere l'acqua del carote ok avete visto mettiamo in barattoli così e li metto ancora adesso questo li mettiamo bene e li riempiamo l'olio guardate che è uscito allora questo è olio di girasole mettiamo finché il carote si copre bene perché questo olio possiamo usare non per abbronzare solo anche per i capelli perché io non voglio abbronzare preparo per mio marito invece io uso per i capelli invece io uso per i miei capelli guardate così metri metto un po' e li prepariamo una pentola li mettiamo acqua calda così facciamo per non fare per voi il tempo questo metto questo metto nell'acqua così li facciamo bollire per 20 25 minuti senza coprire perché almeno lasciamo per 10 minuti poi dopo copriamo poco avete visto così avete visto così li facciamo bollire dopo 10 minuti lasciamo un po' coperta così senza a pissarlo bene così ancora per 10 15 minuti adesso ho finito 25 minuti ho fatto bollire e lasciamo che fredda lasciamo per 5 minuti dopo 5 o 10 minuti che fredda li copriamo bene così e svolgiamo un tessuto un po' scuro e lasciamo in un luogo lontano dalla luce per 3-4 giorni poi possiamo utilizzarlo filtriamo e poi utilizziamo allora ci vediamo dopo 4 giorni il mio olio è diventato così allora li filtriamo per adesso li lascio così li filtriamo e li usiamo allora vi ringrazio e se vi è piaciuto questo video mettete un like o iscrivetevi al mio canale arrivederci ciao ciao alla prossima